Oggi voglio raccontarvi una storia che può sembrarvi incredibile, e si tratta delle petit curie. Che cosa sono? La storia comincia con Maria Sklodowska, una polacca che studia alle scuole superiori a Varsavia e poi ha il sogno di laurearsi in fisica e per questo vuole andare a Parigi. È povera però e ha una sorella e si mette d'accordo con la sorella che la sorella va prima e lei intanto lavora per aiutare la sorella e poi quando la sorella finirà di studiare aiuterà lei a studiare se stessa e così fanno. E arriva il momento di andare a Parigi, si laurea e arriva il momento anche di iscriversi al dottorato. Ed è poco dopo questo, è una delle prime donne che si scrive al dottorato a Parigi, incontra un altro fisico molto bravo, Pierre Curie, e i due si piacciono immediatamente, quasi un colpo di fulmine, e nel 1895 si sposano. Pensate che per viaggio di nozze fanno un giro in bicicletta, qui le vedete nei dintorni di Parigi. E poi tornano al loro laboratorio dove Marie vuole studiare la recente scoperta della radioattività e convince anche il marito ad aiutarla. E quindi i due cominciano a studiare materiali radioattivi. E due anni dopo il loro matrimonio nasce la primogenita Irene, che avrà un ruolo nella storia che vi sto per raccontare. E gli insegnanti di Irene, visto che a Marie non piaceva il sistema scolastico parigino, quello elementare, sono, pensate un po', fisica lei stessa, chimica da Jean-Baptiste Perret, che sarà Nobel nel 1926, e matematica da un altro fisico, Paul Langevin, che è stato ed è a quel periodo studente di Pierre e di Marie stessa. Nel 1903 gli studi dei coniugi Curie ricevono un meritatissimo premio Nobel per i loro avanzamenti nello studio della radioattività, ma tre anni dopo c'è la tragedia. Mentre camminava, Pierre Curie nel 1906 è investito da una carrozza e muore tragicamente. È un grandissimo, grandissimo dolore per Marie. I due erano profondamente innamorati, si stimavano moltissimo, andavano molto d'accordo e quindi erano una grande coppia e stavano facendo degli studi importantissimi, come dimostra il Nobel ricevuto. E quattro anni dopo, nel 1910-1911, Marie ritrova il suo ex studente e ex studente di Pierre, che è Paul Langevin. Tra l'altro era stato docente di sua figlia, professore di sua figlia, professore privato. E nel 1911, ad un congresso Solvay, a cui Marie era sempre stata invitata come personaggio importante, i due si innamorano. Si innamorano e comincia una relazione e dovete sapere che Paul Langevin era sposato, aveva quattro figli, ma era separato dalla moglie. Vivevano in case diverse, ma l'ex moglie addirittura pagava un detective privato per indagare sulla loro relazione. Il detective privato riesce ad entrare nell'appartamento di Pierre e ruba delle lettere d'amore di Marie, che l'ex moglie farà pubblicare proprio quell'anno sui giornali francesi, scandalistici e no. I giornali titolano a grandi lettere la polacca rovina famiglie e così via. E proprio in quell'anno però Marie Curie vince il suo secondo Nobel per la chimica. E dato che c'è questo scandalo, il comitato dei Nobel consiglia a Marie di non andarlo a ritirare, addirittura facendo infuriare Marie giustamente, che anche sotto consiglio di Albert Einstein, che le scrive una lettera dicendole di non ascoltare questi rettili, che li chiamo così, che sparlano di lei, va a Stoccolma con Irene, che allora ha 14 anni, a ritirare il Nobel. E dopo tre anni però scoppia la guerra, la prima guerra mondiale. E nonostante tutto quello che ha ricevuto dalla Francia, insulti e brutte parole, Marie vuole aiutare il suo paese d'adozione. E ha un'idea. Dice, ma perché i feriti al fronte hanno bisogno di andare in ospedale per farsi curare? Non possiamo andare noi da loro? E quindi ha l'idea di attrezzare delle macchine, delle automobili, con i tubi di crux che servono per fare raggi X, per fare le radiografie. Ha un problema subito però perché deve produrre elettricità e quindi attrezza queste macchine, questi automobili con una dinamo. E lei stessa impara a guidare, non aveva la patente, e per poter guidare queste che vengono chiamate petit curie in suo onore. E impara anche a cambiare le ruote e a pulire il carburatore. Non solo, ma convince o obbliga, non si sa bene, sua figlia Irene, che ormai lavora con lei, di andare al fronte, qui vediamo uno schema di questa macchina, andare al fronte e istruire i soldati su come si fanno le radiografie, cosa che Irene fa e entrambe quindi fanno questo servizio per due anni. Pensate che alla fine della guerra saranno oltre un milione i soldati che avranno avuto questo aiuto di avere una radiografia al fronte dalle petit curie che da due dozzine che erano all'inizio sono diventate più di duecento. Ora, Irene, qui la vedete al lavoro, la giovane Irene con sua mamma, un po' più cresciuta con questo signore, che diventerà suo marito, è Frédéric Joliot, anche lui uno scienziato molto bravo. Si sposano nel 1926 e decidono di prendere il cognome comune, quindi Irene Curie si chiamerà Irene Joliot Curie e Frédéric si chiamerà Frédéric Joliot Curie. I due lavorano benissimo, hanno una grande intesa e nel 1935 tutte e due vincolano il Nobel per la chimica, per aver scoperto la radioattività artificiale, hanno scoperto che alcuni elementi che non sono radioattivi naturalmente, ma se bombardati con raggi alfa, lo diventano. Una scoperta eccezionale che fa della famiglia Curie la più titolata mai esistita. Abbiamo cinque premi Nobel vinti da Pierre e Marie per la fisica nel 1903, da Marie Curie nella chimica nel 1911 e da figlia e genero Irene e Frédéric Joliot Curie nel 1935. Con questo è tutto, vi saluto e arrivederci alla prossima.